Studio ben trovati nella seconda parte di Vox Populi, quest'oggi parliamo ancora una volta, anzi non ancora una volta, ve lo ripeto, di quartiere San Paolo. Chiedo alla regia di preparare la terza clip di sondaggio, intanto vi ricordo il numero per intervenire in diretta 080 501 9998, vediamola insieme. Grazie a tutti. Siamo tra i 50 anni e poi siamo circondati dal positivismo. Qui c'è una rottura della piastra, dobbiamo corrare tutti insieme con la gente già sotto e il tetto sotto. Lì sta da corrare, vedi? Dovrete ai figli, qui c'è una perda da tre mesi, abbiamo detto. Viene a vedere, va bene. Qua sono due anni che sarò. Questo è l'aumento del camere, ma qualcuno viene a vedere la situazione della piazza che vuole essere buttata a terra. Questa è l'ovevole essere pagata. Un po' più in là, un grande spiazzo è dedicato al mercato del venerdì. Peccato solamente che qualcuno si sia divertito a smontare le giostrine e a devastare tutti i bagni. Eccoci qui, abbiamo già un ascoltatore in linea. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Senta, mi chiamo Michele, chiamo insieme dal San Paolo e volevo fare una domanda a riguardo. Come mai al San Paolo vi è solo un ufficio postale? Perché il Comune non fa qualcosa affinché si possa, ad esempio, a Piazza Europa vi sono tanti e tanti locali abbandonati. Sì. Come mai non si riesce ad aprire un ufficio postale dove può richiamare una certa utenza e non creare un disagio sull'ufficio postale lì vicino alla piazza coperta? Perfetto, grazie mille. Perché lì ci sono gente, io ho un genitore che vive con me, mio padre, che quando deve prendere la pensione fa ore e ore di coda e crea un disagio. Come mai? Perfetto. Non siamo riusciti a capire, se faccio un esempio, a Bitondo ci sono oltre 5-6 uffici postali, Bitondo che è la metà del San Paolo come utenza, perché al San Paolo non si riesce ad aprire un altro ufficio postale? Grazie, grazie per la sua chiamata, una domanda sacrosanta, ovviamente la gireremo a chi di dovere. C'è una storia, c'è una signora molto anziana del San Paolo che ogni mattina dalle 4 e mezza crea dei bigliettini e li distribuisce agli altri prevalentemente anziani che si mettono in coda all'ufficio postale dalle 4 e mezza di mattina pur di guadagnarsi un posto per avere un operatore a disposizione qualche ora dopo. Io penso che questa sia una vergogna e che veramente può succedere al San Paolo, non so se in altri quartieri avrebbero permesso che questo accadesse. Hanno promesso l'apertura di un altro ufficio postale ma sono anni che il quartiere è in attesa. Francesco, per quella che è stata la tua esperienza sul quartiere, come è servito, come vanno i servizi del quartiere? Il quartiere è molto grande, come dicevamo prima, anche diviso in varie zone. I servizi non sono quelli del centro ovviamente, dal punto di vista della mobilità si è fatto tantissimo con la metropolitana, come dicevamo prima, che è un servizio davvero efficiente. Il problema forse è che passa soltanto una volta ogni 40 minuti e dovrebbe essere incrementato, ma come servizio è davvero molto efficiente. Dal punto di vista delle poste è una tragedia, gli altri servizi il problema è che quando ci sono sono difficilmente raggiungibili, perché invece il problema è la mobilità all'interno del quartiere. Un quartiere, come dicevamo prima, molto ampio, molto grande ed è difficile spostarsi da una parte all'altra, c'è bisogno inevitabilmente della macchina. Non ci sono piste ciclabili nonostante sia un quartiere abbastanza piatto e che si presterebbe invece all'utilizzo della bici. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Dottoressa? Prego. Senta, volevo dire questo, è un servizio eccellente il vostro, però tengo a precisare perché tutto quando non viene esposto alle istituzioni? Ecco, perché ho capito, ci sono molti problemi e non a San Paolo, ma in diversi posti della città di Bari. Va bene, non ci sono soldi, non c'è questo, adesso speriamo che vada qualcosa. Però io questi problemi chiedo scusa, per i signori li ringrazio perché è bene ogni volta vedere un quartiere diversa che per il domani si interessa. Però io vi direi, fate venire i politici, perlomeno uno di noi può esporre tutto quanto, va bene, perché è uno scempio, è uno scempio, è uno scempio. Io vi ringrazio, dottoressa la saluto tanto, buonasera. Grazie, grazie mille signora per la sua telefonata, come vi ho spiegato durante la prima puntata, questo è un contenitore, quindi noi raccogliamo quelle che sono le problematiche e poi saremo noi stessi di Telebari a portare ai politici le vostre richieste, fermo restando che lo sapete, durante le nostre trasmissioni spesso comunque i politici sono qui presenti. 080 501 9998 il numero per intervenire in diretta. Giovanna, secondo te i residenti del San Paolo che tipo di rapporto hanno a questo punto con le istituzioni? Si sentono vicini alle istituzioni o si sentono abbandonati? Beh, per l'esperienza che ho, secondo me sentono un po' l'abbandono delle istituzioni. Nonostante, devo dire, io per esperienza personale abbia comunque un buon rapporto con le istituzioni per quello che facciamo, quindi soprattutto i servizi sociali sono molto presenti sul quartiere, sono vicini alle famiglie, però mi accorgo che spesso c'è la non conoscenza e questo diventa poi un limite perché molte famiglie non sanno, non conoscono e magari si sentono sole, no? Quindi forse questo è il limite più grosso perché poi le istituzioni ci sono, sono presenti e sono un po' lontane, però insomma bisogna andare, bisogna avvicinarsi. Siamo addirittura d'arrivo, quindi io chiedo alla regia di mandare la quarta e ultima clip così magari riusciamo a commentarla un po' dopo. Al quartiere San Paolo ciò di cui si sente maggiormente la mancanza sono i servizi. Se da un lato la metropolitana funziona efficientemente, dall'altro non può dirsi lo stesso degli autobus. Le orari che non vengono rispettate, le corse che vengono saltate, poi sono tutte rotte le macchine. L'orario non è arrivo, non è sempre parità, diciamo. Bisogna aumentare le corse, soprattutto la linea 3, perché la mattina soprattutto dalla fascia oraria dalle 7 alle 8 sono stra pieni i pullman e non tutti riescono a prenderli. Il posto da sedere sono poche, si viaggia come le sardine, cioè come gli animali praticamente. Molta gente preferisce prendere ora il metro che comunque costa di più rispetto al pullman. È un costo aggiuntivo, se loro aumentavano le corse si poteva prendere l'amta. A proposito di servizi, inviare un pacco non è mai stato così difficile. Un solo ufficio postale serve l'intero quartiere e a volte l'attesa per il proprio turno può durare un'eternità. Quando pagano le pensioni, dal giorno 1 al 10, c'è sempre confusione. Solo quello. Se in quei giorni aprissero un altro ufficio postale o aumenterebbero il personale in questo ufficio, sarebbe molto meglio. Sta confusione, non ci sta meglio. Quanto tempo di solito ci vuole per fare un servizio all'ufficio postale? Se ne va parecchio, non è meno, a volte due è uno. Eccoci qui Francesco, la risposta a quello che stavamo dicendo, no? Esatto, sì, è veramente un'odissea quella dei servizi a San Paolo, in particolar modo della posta, davvero. Notavo però prima anche la diversità, magari anche interessante che abbiamo fra San Paolo Social Network e Campo di Fragole, perché noi, ma avete forse involontariamente anche mostrato uno dei murales che abbiamo realizzato. La prima immagine. Sì, sì. Noi diciamo abbiamo voluto concentrare la nostra attività sia all'interno del nostro centro, che chiamavamo hub, come un luogo di incontro, un luogo in cui non ci si passa per caso ma ci vuole andare. Però diciamo abbiamo anche concentrato tutte le nostre attività per strada. Molte attività di animazione di strada, la realizzazione dei murales sui diritti dell'infanzia e molte attività di animazione territoriale. Abbiamo portato anche dal centro di Bari, con la collaborazione dell'associazione Menù Kebab, abbiamo realizzato un festival di musica hip hop, portando un cantante giamaicano, cioè anglo-giamaicano, famosissimo nell'auditorium dell'istituto Majorana. Quindi abbiamo voluto in un certo senso aprirci anche alla strada, cercare di appunto colmare questi vuoti strutturali che il quartiere ha, cercando di far incontrare le persone, di rimettere insieme e di costruire una comunità. 080, sì, stavi finendo di parlare. No, 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 non volevo ovviamente togliere la scena a campo di fragole, non perché loro non lo facciano, però diciamo l'impostazione è diversa ma è probabilmente proficuo lavorare. E' la diversità che arricchisce, d'altronde, no? E' anche la bellezza del quartiere San Paolo. Siamo quasi in chiusura, però vi ricordo il numero per intervenire in diretta. Se avete una chiamata flash da fare 080 501 9998, Giovanna, un argomento che non abbiamo toccato, la pulizia del quartiere, come ti sembra? Beh, quello è un po' carente, non è un quartiere pulito. Per quanto, insomma, la gente ci provi a tenere il suo condominio, il suo orticello abbastanza pulito, perché comunque la gente del quartiere ci tiene, però è un po' trascurato, un po' abbandonato questo aspetto, quindi sicuramente andrebbe risistemato. Incrementato. Francesco, lo chiedo anche a te. Sì, diciamo così. Poi ovviamente ci sono anche gli incivili a San Paolo e ci mancherebbe. Come dappertutto del resto. Sì, molti ragazzi imbrattano i muri con delle scritte o buttano anche la carta per terra, ma questo succede in centro come a San Paolo. Diciamo l'igiene non brilla, potrebbe sicuramente essere migliorata, questo sì. Allora, in chiusura, se qualcuno delle persone che ci sta guardando volesse contattarvi, magari per diventare come voi un attivista sul territorio, come dovrebbero fare? Giovanna? Può tranquillamente venirci a trovare in cooperativa e ci farebbe molto piacere. Noi abbiamo la sede in via Barisano da Crani, proprio sopra la parrocchia San Giovanni Bosco. Può contattarci attraverso Facebook, può mettersi in contatto con noi attraverso il nostro sito. Quindi ci sono tanti modi per raggiungerci. Quindi su internet ci trovano ogni riferimento? Trovano tutti i riferimenti, assolutamente. Eden per sanpaolosocialnetwork.it, siamo anche su Facebook con San Paolo Social Network. E la nostra sede è in via Cacudi 15-17, diciamo sul ballatoio del nuovo centro direzionale, proprio di fronte alla cittadella della polizia, a fianco ai magazzini del sole, per intenderci con gli abitanti del quartiere. Perfetto, ora siamo veramente in chiusura. Io ringrazio i miei ospiti per essere stati qui con me questo pomeriggio. Ringrazio Giovanna, ringrazio Francesco. Grazie a voi per essere intervenuti, per averci seguito. Noi torniamo venerdì prossimo con una nuova puntata di Vox Popoli. Intanto ovviamente, rimanete con noi su Telebari. Io, io, Bari violenta, Bari vecchia, Bari ancora per i ritorni, Bari porto, Bari fiera, Bari mia nonna mi portava per la mano, Bari è la manifestatura dei tabacchi, Bari piazza prefettura, Bari la focaccia e i pomodori sopra il marciapiede, Bari maleducata, Bari ti guarda stranata, Bari si dipende, Bari barricata, Bari resistenza. Oh, 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 oh.